Grazie a tutti. 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 E allora, che con la lingua, con un pugno, è aperta, e fa cagare, non riesco, non riesco a schiacciare. in un'altra, in un'altra, molto bene, in un'altra, in un'altra, in un'altra, poi un'altra, in un'altra, un'altra, in un'altra, bene, in un'altra, in un'altra, e, in un'altra, e, 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 e,